E così resterai tu con tua moglie e i tuoi figli, un borghese, classe media, chiaro? Le disgrazie capitano più ai ricchi e ai poveri che alla classe media. Noi ce ne stiamo rintanati al coperto, hai capito? Al calduccio! Dai, su, vieni qui, Roby, non fare il bambino, ti penseremo a mantenerti fino alla laurea in legge. Tu non dovrai far altro che studiare e comportarti bene, ma se invece farei di testa tua e non ci ascolterai, beh, allora lasciamelo dire, i guai te li sarai procurato da solo. Guarda cos'è capito a tuo fratello, ci è intestardito, non ha ascoltato a me e tua madre. E cos'è successo? Ci è fatto ammazzare in guerra.